Signori, ben ritrovati. Il giorno dopo Juve-Inter brucia come ogni sconfitta, contro di loro di più, io non mi nascondo dietro un dito. Rallegra un po' la giornata, rallegra un po' la giornata video, ho fatto un po' così perché sono in pausa e non posso fare altrimenti perché non riesco veramente a trovare il tempo durante la sera, sono veramente stanco. È una giornata rallegrata dal sorteggio di Champions che finalmente sulla carta ci fa trovare un avversario più abbordabile, ovvero il Porto. Rallegrata in parte la giornata perché comunque ovviamente l'auspicio è di passare gli ottavi di finale contro il Porto, però si sa che la Champions è una competizione a cui non possiamo ambire, quantomeno sulla carta, per ora. È vero che il PSG incontra il Bayern e poi c'è anche un altro big match, adesso non li ho visti, un po' di sfuggita, gli accoppiamenti, c'è anche un'altra grande sfida che eliminerà un'altra grande squadra, che non mi ricordo se è il City o chi per loro, però sì, la rallegra in parte. Diciamo che dopo tante sfighe del girone che siamo riusciti a passare, e di questo va dato merito a Inzaghi, ma di Inzaghi parliamo dopo, diciamo che la rallega in parte appunto. C'ho ancora un tiraculo esorbitante per ieri, un culo esorbitante. Non ho analizzato la partita perché ovviamente sarebbe stato un video che sarebbe durato 20 minuti e non era il caso. Lo sfogo, adesso a mente lucida, a mente lucida, proviamo un attimino ad analizzare. Allora, partiti bene, 10-15 minuti, tenevamo il pallone, giocavamo fluidi, però ci siamo comportati come le prime sfide di quel mese e mezzo del cazzo che abbiamo fatto inizio stagione e quindi, di conseguenza, dopo quei 10-15 minuti sembrava che avessimo esaurito subito la fiducia in noi stessi, fossimo andati nel panico, cioè la Juve non è che aveva fatto chissà che cosa. Poi ti presenti davanti al portiere, l'occasione di Gekola, butti fuori sul calcio d'angolo. Lautaro, secondo tempo, spara una scorreggia letteralmente addosso sul piede di Scesni. Poi c'è stata anche l'occasione sempre di Lautaro che ha sparato fuori un tiro al volo con il sinistro. Dunfriss, cioè Dunfriss ragazzi, Dunfriss. Io voglio ribadire, cioè io Dunfriss li voglio anche bene, per carità di Dio, però voglio ribadire che c'è della gente che pensa che Dunfriss valga 50 milioni, 40-50 milioni. Se lo avessero venduto quest'estate a 40-50 milioni, cioè apriti cielo, fate una statua a Beppe Marotta, fategli un monumento, ma di quelli veritieri, non di quelli farlochi tipo quello di Manet che è uscito da poco, fatto con il buco del culo, fategli un monumento serio, fategli una statua in oro, e purtroppo non è stato così. Anche perché poi da quella parte avevamo Bellanova che col seno di Poi io lo farei giocare di più, Darmian che secondo me se giocava ieri sera e si trovava nella posizione di Dunfriss con il sinistro la metteva dentro, però è chiaro che con i secoli in mano non si va da nessuna parte, non abbiamo la controprova. Quindi, Juve con due tiri in porta, perché alla fine credo che abbia veramente fatto due tiri in porta, si porta a casa la partita più sentita e più importante dell'anno per noi, ma anche per loro, perché ci hanno sempre in testa, come noi abbiamo in testa loro. Non ci siamo dimenticati dei gobbi che l'anno scorso abbiamo sottratto due trofei, con quelle due grandissime vittorie, un godimento totale di Bonucci che doveva entrare per i rigori, e poi è successo quello che è successo. Questo non ce lo dimentichiamo, questo non ce lo dimentichiamo, quindi adesso lo stanno godendo ovviamente come dei maiali, ed è giusto, ed è giusto che sia così. Capitolo Inzaghi Capitolo Inzaghi Inzaghi, l'anno scorso, ha un girone abbordabile di Champions, con Real Madrid le perdiamo entrambe, vabbè ci mai chiederebbe altro, hanno vinto anche la competizione, hanno vinto la Coppa, e quindi col seno di poi, non lo sapevamo, però il Real è sempre il Real, anche se negli anni ha perso qualche giocatore, non è più forte come quando c'erano Cere 7, Bale, Benzema, la davanti, Modric un po' più giovane, ma fanno ancora il loro, quelli che ci sono, e lo hanno dimostrato. E quindi passiamo questo girone, con le altre due che erano lo Shakhtar e lo Sheriff, che dovevamo batterle, abbiamo fatto il nostro, e questo gliene va dato atto, con Liverpool veramente devo dire due grandi prestazioni, perché all'andata, l'attraverso di Celanoglu, la ricordiamo tutti, avevamo anche creato, avevamo comunque giocato bene quelle partite, non le abbiamo mai impostate male contro queste grandi squadre, non le abbiamo mai impostate male, questo va detto, neanche con Real Madrid, quest'anno col Barcellona, l'impresa della vittoria a San Siro, che qualcuno adesso sta iniziando a dire che non è più un'impresa, ma un po' di silenzio ogni tanto farebbe bene a certe persone, il 3-3 al Camp Nou, e col Bayern Monaco all'inizio eravamo depressi cronici, quindi la prima partita me l'aspettavo come è andata, e in ritorno eravamo già qualificati, ci abbiamo provato quella mezz'oretta, 35 minuti, ma poi dopo la partita che non contava più niente, quindi alla fine quella lì col Bayern me la faccio anche andare giù, secondo me l'unica approcciata veramente male contro la grande squadra è stata l'andata col Bayern Monaco, di questi due anni di gironi di Champions, il Porto certamente è una squadra che gioca molto bene, propone un calcio offensivo, verticale, crea tanto, e quindi non bisogna sottovalutare questa sfida, come l'anno scorso non avrei sottovalutato l'Ajax, che con il girone Farlocco, col sorteggio scusate Farlocco, vi ricorderete bene che avevamo pescato l'Ajax, e poi dopo è successo quello che è successo, ce la saremmo giocata molto più apertamente contro l'Ajax rispetto che contro un Liverpool, ovviamente, quest'anno è andata così con il Porto, quindi non va sottovalutata questa cosa, non va sottovalutata, comunque Inzaghi, Inzaghi gli va dato atto di essere un allenatore della Coppa, perché alla Lazio vinceva le Supercoppe, vinceva le Coppe Italia, non aveva la squadra per competere per lo Scudetto, e quindi si è arrivato anche in Champions un anno con la Lazio, e quindi gli va dato atto di questo, sicuramente, è da lì che si pensava che potesse fare quello step, quel salto di qualità che gli è stato concesso, facendolo venire all'Inter, e il sunto poi di Inzaghi l'avevo già fatto anche in un altro video, ma voglio ribadirlo, passa il giro dell'anno scorso, passa il giro di quest'anno, ma in campionato, ragazzi, in campionato c'è quattro scontri diretti più la partita persa con l'Udinese, sono un'utopia, cioè è una cosa che mi manda nei matti, se c'è una cosa che mi fa proprio ribollire il cervello, è avere la squadra forte, perché lo ripeto, l'Inter ha la rosa probabilmente più forte della Serie A, ci metto insieme la Juve, che bene o male è lì lì, così nemmeno forse con quello che ha perso, ma poi con i nomi che hanno, lo so, il Napoli l'avrei messo subito dopo, e infatti è primo con un gioco spumeggiante, e Spalletti, o a me è sempre piaciuto, io ho sempre voluto vederlo con una grande squadra alla mano, e adesso ce l'ha, e infatti guardate dov'è, poi dopo vediamo con la seconda parte, perché anche l'anno scorso era partito, scintille, tuoni e fulmini, e poi è successo quello che è successo, quest'anno è un anno più anomalo, potrebbe essere diverso per lui, a questo punto, a questo punto mi tocca anche di fare il Napoli, per far sì che il Milan non vinca la seconda stella, perché sennò succederebbe un putiferio di dimensioni apocalittiche, e vorrei evitarlo, mi tocca tifare Napoli, cioè mi tocca, mi stanno anche simpatici, però insomma, io sono nato per tifare la mia squadra, non tifare le altre, volevo non ridurmi a questo punto, comunque, in Zaghi, in Soldoni, cioè, io rimango dalla mia idea, l'anno prossimo, prima fa sulle canne, meglio è, spero che venga un sergente di ferro, o quanto meno che ci si avvicini, perché all'Inter non serve giocare bene, all'Inter non è mai servito giocare bene, con Mourinho ha vinto, giocando, sì, a tratti bene, ma con catenaccio e contropiede, con Mancini, forse giocavamo un pelo meglio, ma non è che ci si ricorda il gioco sfavilante di quando c'era Mancini, sto parlando degli ultimi anni di vittoria, ovviamente, con Antonio Conte non ne parliamo, giocavano a memoria, in contropiede, l'Inter non ha bisogno di quelle persone lì, io in Zaghi, prima va via, e meglio sto, lo ringrazio per quello che ha fatto in Champions, e poi passerà anche i quarti, ringrazio anche per quello, ma prima va via, e meglio sto, la gente che lo difende ancora, si sta aggrappando al niente, mi tocca anche dire, che non capisce, capisce poco di pallone, come capisce poco lui, che si è portato dietro Correa, e compagnia cantante, cioè è riuscito a rovinare la difesa del migliore d'Italia, a rovinare anche certi giocatori, anche Gossens, anche Gossens, che Gossens non può giocare mai, Gossens non può giocare mai, per delle scelte poi scellerate, scusate il gioco di parole, e se ripeto io avrei fatto giocare Darmian, ma poi vabbè lì andiamo su delle puntigliature, prima andrà via, e meglio sto, giornata rallegrata parzialmente, dalla notizia degli ottavi, e niente, questo è il sunto, è l'analisi della partita, la Juve ha colpito con due occasioni, e quando le caghi tante, paghi, sempre Forza Inter, iscrivetevi, commentate, e ditemi la vostra, grazie,